Prime sentenze in Coppa Italia di promozione. La più sorprendente riguarda la qualificazione al prossimo turno del Levanto, impostosi da autorità a Falconara al Don Bosco Spezia per 3-2, quando dopo l'1-1 nel turno d'andata a Moltedi si vedevano favoriti i Salesiani. A tale match si riferiscono queste immagini. I Salesiani comunque si possono consolare domani con la riapertura. Finiti i lavori a Pagliari dello stadio Franco Cimma. Domattina per l'occasione saranno presenti anche il senatore Grillo, il sindaco Peracchini e l'assessore Frascatore. Passando con le immagini alla storre Tanca va avanti in Coppa anche il canaletto che Ivi con rete di campagni si impone per 1-0 al Cadimare. Anche qui nel turno d'andata alla Piede si era registrato un 1-1. Le riprese appunto si riferiscono all'incontro del Tanca. Esce dalla competizione anche l'intercomunale Beverino che per 2-1, comunque sempre giocando bene, perde a Ronco contro il forte Valle Scrivia dopo il 4-2 al passivo del Colombo. E venendo infine con le immagini al match di Luigi Camaiora a Santo Stefano Magra, nonché alle partite d'andata che erano state rinviate a causa dell'allerta arancione, il Magrazzurri parte molto bene vincendo in rimonta per 2-1 sul quotato team della Caperanese. E con lo stesso risultato al Miro Luperi di Sarzana, la Tarros Sarzanese fa suo il match con il Rapallo Rivarolese. E con lo stesso risultato al Miro Luperi di Sarzana, la Tarros Sarzana, la Tarros Sarzana, la Tarros Sarzana.